Parliamo della gara con Armando Prisco, protagonista anche oggi con due o tre belle parate su te e su Recino. Una buona prestazione la tua, sufficiente quella del Pergo, fondamentali i tre punti? No, io dico invece più che sufficiente perché oggi la squadra ha dimostrato il carattere che ha. Siamo contentissimi della prestazione che abbiamo fatto e siamo contentissimi di questa vittoria che era fondamentale e per l'espulsione di Miki sembrava che ormai tutto stesse finendo, invece la squadra lì ha tirato fuori il vero carattere, il carattere da Pergo, quindi più che sufficiente direi. Tua prestazione, le tue parate su uno degli attaccanti più forti del campionato, buona la tua? Sì, il ruolo del portiere è questo, come ti ricordi a busto, forse sono stato non impeccabile e oggi ho fatto il mio, quello che c'è da fare per portare a casa il risultato, quindi non c'è niente da dire, quindi sono contentissimo sì della mia prestazione, ma sono contentissimo per noi, quindi più felice per noi. Una vittoria pesantissima per il morale e per la classifica per tutto oggi? Sì, soprattutto per il morale e anche per la classifica. E quindi ora vi arriverò al Caravaggio, ci siamo prefissati in un obiettivo e dobbiamo arrivare a quell'obiettivo lì prima delle vacanze natalizie. Una partita in casa? Anche della Coppa, quindi sì. Sicuramente anche la Coppa è importante, però insomma, quello che ti volevo chiedere, a questo punto c'è stato il Pergo, insomma, ha fatto delle vittorie, a cui però ha fatto seguito spesso delle altre ricadute. Quanto è importante dare continuità nelle prestazioni, ma soprattutto nei risultati? No, magari all'inizio sì, però dopo domenica, nel senso prima di domenica col Serenio, venivamo da buone prestazioni e da buone gare e stavamo facendo punti. C'è stato un cambio di rotta da Olginate, quindi poi magari a busto, ti ripeto, ho sbagliato io perché sennò anche lì un punto ci poteva stare, anzi forse di più, quindi solo lì abbiamo sbagliato magari ad Olginate. Poi siamo sempre andati per la nostra strada, quando siamo ricaduti solo ad Olginate, ora credo che la squadra non ricadrà più su niente.